Visit Molise si chiama così il portale regionale approntato dall'assessorato al turismo e alla cultura presentato al Teatro Savoia, uno strumento attraverso il quale sarà possibile incrociare domande e offerta turistica, informazioni, proposte e progetti degli operatori di settore, una piazza virtuale nella quale sono destinati ad incontrarsi istituzioni, utenti e aziende in una prospettiva di rilancio post pandemia di un Molise capace di sviluppare le sue principali peculiarità paesaggistiche e naturalistiche. È questo l'obiettivo del piano strategico per il turismo approntato dall'assessore Cotugno e condiviso da Giunta e Consiglio. La regione, l'assessorato ha il dovere di programmare, di disegnare una vision e di promuovere la regione, lo stiamo facendo sui canali nazionali, regionali, sui social, a tutti i livelli. Il territorio oggi deve rispondere con i contenuti. Apriremo uno sportello presso l'assessorato per assistere le amministrazioni locali, gli stakeholder, le associazioni, le prologo, tutti quelli che vogliono partecipare perché è una vera e propria rivoluzione che noi siamo convinti che porterà all'attenzione del mondo una regione straordinariamente bella. Tra i principali segmenti da intercettare, una buona domanda arriva dal cosiddetto turismo di ritorno, quello che riguarda le nuove generazioni di molisani all'estero. Sono circa un milione i nostri corregionali che vivono nelle terre di accoglienza. Stiamo lavorando molto con i molisani nel mondo, abbiamo ricostituito il consiglio dei molisani nel mondo. La interazione anche questa mattina, il collegamento con i molisani nel mondo è un fatto quotidiano, possiamo dire. Ci sarà sulla piattaforma un link dedicato proprio ai molisani nel mondo. Io dico che da parte nostra e da parte delle istituzioni è un dovere, un occhio di riguardo nei confronti dei molisani nel mondo, ma è anche una grande opportunità per avere quel turismo di ritorno. Il turismo delle radici per circa un milione di molisani che stanno in giro per il mondo, di seconda, di terza generazione. Il Molise esiste, dicono tutti, anche il presidente Toma si dichiara soddisfatto. Vieneci il forastiere allo Molise, ce ne tagliamo insieme un coppumatis. È una canzone molisana bellissima che invita il forestiero, il turista che viene da fuori regione a venire in Molise e insieme a una guida molisana a salire sulle nostre alte vette, le vette del Matesa. Ci presentiamo al mondo, un mondo che in realtà prima della pandemia si era dimostrato particolarmente attento al Molise. Ricordiamo l'articolo sul New York Times tra le mete da privilegiare. Da dove ripartiamo? Ripartiamo da dove è ripartito il New York Times, dal Molise. Dobbiamo sfruttare al massimo questa notorietà che questa regione ha avuto nel mondo attraverso riviste specializzate che hanno apprezzato la nostra, io direi, non sofisticatezza. Noi non siamo sofisticati, siamo genuini. Questa è la genuinità che probabilmente i turisti cercano.